Un boomerang che accetto molto volentieri perché qui c'è proprio lui, c'è anche un tocco di ufficialità che altrove non c'è, soprattutto c'è grande tradizione. Io sono sempre stato molto attento e ho sempre ammirato tantissimo le città e gli abitanti che conservano con grande impegno, con grande energia le proprie tradizioni. A Gubbio tutto questo è nelle vie, nei muri, nelle facce, nelle chiacchiere che si sentono delle persone, quindi per me è un grande onore se vogliamo. Per quanto l'atmosfera, il contesto sia un premio che rasenta un po' la goliardia, però lo trovo un confine molto sottile che confina con la storia e con la tradizione, quindi c'è un misto ovviamente di allegria ma anche di grande orgoglio e di grande trasporto. È abbastanza raro che venga un paio di volte nello stesso posto, però ho sempre trovato dei cavalli interessanti, diciamo materiale umano da quel punto di vista soddisfacente. Poi in realtà è una scusa perché io ho sangue Umbro, mia nonna era di Preci e quindi ho passato tutti i mesi d'agosto da 0 a 30 anni in Umbria, una terra che adoro, che conosco molto bene, quindi Gubbio la conoscevo anche prima da turista e quindi poi stavolta la scusa era ottima, avevo un alibi perfetto. Io sono venuto, il primo rapporto con la produzione di Striscia la Notizia l'ho avuto qui a Gubbio, che venne a fare lo scalda pubblico quando fecero veline nel 2004. E fu una serata impegnativa perché io avevo sei uscite, siamo stati qui fino alle due di notte, le prime due telegiochi, poi la gente era stanca, magari cominciò a fare freddo verso mezzanotte e io invece volevo dimostrare perché così mi volevo mettere in mostra anche, quindi furono sei uscite abbastanza impegnative. E quindi se vogliamo proprio il mio primo mattone, poi è chiaro sono andato a fare altro, però il primo contatto con loro, con l'entourage loro fu proprio qui a Gubbio. Sembra ieri, sono passati 14 anni.